Questo che vedete è lo Yubari King, ovvero il frutto più costoso del mondo. Si tratta di un melone giapponese. La particolarità di questo frutto è che viene venduto in coppia. Si dice che il gusto sia molto dolce, purtroppo non lo proveremo mai. Una volta selezionate le migliori fioriture per impollinare i fiori scelti per produrre questo frutto, vengono appositamente selezionate le api. Vogliamo te ape? Questi frutti sono stati battuti all'asta in Giappone per 20.000 dollari. Che cosa? E non è finita qui perché la cosa più divertente è quella che vi sto per dire. A questo frutto viene messa periodicamente una copertura per le scottature e viene massaggiato tutti i giorni. Non sto scherzando? Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e se anche voi venite massaggiati giornalmente.